. Belen Rodrícon con accento acuto Guetz ingrassata? La confessione prima di Tu si cue vales. Tu si cue vales, Belen è fuori forma, le sue parole su Instagram. . La foto caricata ieri sera da Belen Rodrícon con accento acuto Guetz sul suo social ha scatenato una vera e propria polemica nei commenti, la conduttrice di Tu si cue vales ha infatti ammesso davanti allo specchio di essere ingrassata. . 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 La Rodrikon con accento acuto Guetz invece, che ultimamente è stata anche la testimonial di un noto brand di gioielli, sembrava in ottima forma. Belen Rodriguez ritornerà ai tv a fine settembre, con le puntate della nuova edizione di Tussi Quevales, con la partecipazione di Mara Venier, Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Gerry Scotti. Grazie per la visione!